Salve a tutti, sono Mattia per l'amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per augurare un felice 2016 a tutti i fan della Total Combat Wrestling della TCW. Sono sicuro che il nuovo anno sarà ricco di combattimenti, di azioni saltanti sul ring, di match hardcore, di spettacolarità. Non perdete il prossimo evento della TCW il 17 gennaio e ovviamente prima dell'evento dovete assolutamente gozzovigliare e festeggiare durante queste feste di inizio 2016. Mi raccomando divertitevi con amici, fidanzate, amanti, escort e anche parenti, perché no? Buon anno, buone feste e appuntamento per l'appunto il 17 gennaio con il prossimo evento della TCW. Bye!